Il signore servito, ragazzo, spazzola, mancia, grazie, sono convinto che si ha capito che si tratta di una bittega da perrucchè. Il signore servito, ragazzo, mancia, grazie, sono convinto che si tratta di una bittega da perrucchè. Il signore servito, ragazzo, mancia, grazie, sono convinto che si tratta di una bittega da perrucchè. Il signore servito, ragazzo, mancia, grazie, sono convinto che si tratta di una bittega da perrucchè. Il signore servito, ragazzo, mancia, grazie, sono convinto che si tratta di una bittega da perrucchè. Una volta un cliente domanda perrucchè, aveva bisogno di una lusione per far crescere i capelli, ma però se si garantisce che è veramente efficace. Si ha la mia che risponde perrucchè. Questa marca, per conto me, ha l'ha messo di tutte. Si ha pensato che me e Mugè ha dovuto appena sopra lì, sa quando che perdo il paio, e si ha vedesse a fare sempre nuova. Questo dimostra che anche tra i clienti, che gli educhè e quelli indisponenti, fin tanto che cresce a barbe e capelli, dove perrucchè andiamo a fare belli.